Molto dinamico, Rabiotto, McKennie, con l'americano, subito l'apertura sulla corsia, Mancina dove arriva Alessandro torna indietro, Chiellini per Bonucci, Danilo, Danilo per Bonucci, però non è lungo in profondità a cercare Kulusevski, c'è la copertura della retroguardia del Novara che stava per combinare un pasticcio con una piccola problematica per quanto riguarda il portafoglio Allora inizialmente la Juventus difende a tre con Chiellini, Bonucci e Danilo, questa è la prima indicazione, attenzione a questa palla in profondità, a cercare la velocità di Nardi, Nardi finta dentro il passaggio, attenzione dentro l'area di rigore, il traversone viene subito deviato, ancora Nardi la può rimettere in mezzo, Nardi all'interno dell'area piccola la gioca fuori, c'è la buona copertura da parte della Juventus e quindi c'è subito la ripartenza da parte dell'undici di Andrea Quadrado, alza la testa, la sventagliata all'altra parte a cercare e trovare CR7, ottimo l'aggancio del fenomeno portoghese, c'è la corsa ed Alessandro sulla medesima corsia ma cerca e trova Ramsey, Ramsey nuovamente per Ronaldo, Ronaldo lì accanto per McKennie, Danilo, Rabiot, Danilo, Bonucci, Chiellini, Chiellini lo scambio con Ronaldo, ancora Giorgio Chiellini, CR7 parte lontanissimo, il tocco lì accanto per Adria e Rabiot, Rabiot vede con la coda del più Quadrado ma preferisce andare dall'altra parte, non è una brutta idea questa, per Alexandro c'è l'aggancio del brasiliano, il traversone in mezzo a cercare Quadrado del campionato, Chiellini, McKennie, Quadrado, Rabiot, Rabiot l'apertura dall'altra parte a cercare l'aggancio di Alexandro, Alexandro prova anche un mezzo sombrero su Pagari, ce la fa, gli riesce Ramsey, ricomincia con la calma olimpica verso Chiellini, Danilo, Danilo largo per Juan Quadrado, l'uno contro uno su Cagnano, la gioca fuori per Rabiot, Rabiot, Rabiot per Ronaldo, Ronaldo con la punta del piede, dai vai, Ronaldo, è un gol bellissimo quello della Juventus, lo scambio tutto in rapidità con Kuluseschi, Chiellini, Bonucci, si abbassa Rabiot per andare a ricevere eventualmente il pallone, ma la sfera di Leo è nuovamente verso Giorgio Chiellini, Danilo, Danilo largo verso Juan Quadrado, Quadrado, palla centrale per McKennie, McKennie vede dall'altra parte Alexandro, una continua sventagliata, una baglia il passaggio, ma buona l'idea da parte del giocatore svedese, allora ripartiamo la presenza rapidissima per quanto riguarda il Novara, con questa fuga sulla corsa di destra, occhio al pallone eventuale dentro per Bortolussi, ma va... ... Playmaker bianconero, lì accanto per Bentancurra, Bentancurra sua volta su quadrado, Danilo, Bentancurra, raso terra per Marco Piazza, l'aggancio della Croato, l'appoggio largo a cercare Juan Quadrado, l'uno contro uno con Cagnano, sovrapposizione lì accanto di Douglas Costa, Douglas Costa viene anticipato al momento del cross, poi Cagnano pressato da quadrado, no lo molla di un millimetro il colombiano, scambio rapido e quindi Schiavi con il tocco sotto per un compagno di squadra, recupero immediato a parte della Juventus con Marco Piazza, dietro, Artur, Artur per Piazza, Danilo, quadrado, quadrado finta il traversone, poi torna indietro nuovamente dalle parti di Danilo, Alessandro, Alessandro Toccomorbido sotto per Pellegrini, Pellegrini che nella passata stagione ha giocato con ottimo rendimento in prestito al Cagliari, Alessandro, Pellegrini, Alessandro, ricomincia la manovra della Juventus con Danilo, Tutta la formazione novaresi dietro alla linea del pallone, Pellegrini, buono lo stop, va a ricevere l'uno contro uno con Pagani, Pellegrini la conclusione, fuori misura, è rientrato su destro, non in suo piede prediletto, Palla fuori, rinvio dal fondo, per il Novara, fuori tempo perché per via interna arriva prima De Miral, Alessandro, Bentancur, Bentancur si allarga dall'altra parte subito per Douglas Costa, Può puntare la difesa schierata, va Douglas Costa ancora con l'esterno, grande idea questa per Ramsey! Dall'altra parte, questo giù il pallone Portanova, Portanova per Douglas Costa, Douglas Costa vuole il traversone, il tocco per Marco Piazza, limitano le rigore, adesso dentro, Marco Piazza finta e controfinta, il tocco lì accanto, ancora la Juve che prova a farsi vedere, Pellegrini, Pellegrini il suo traversone in mezzo, colpo di testa con la palla appoggiata fuori, Artur, Artur per Nicolussi, Nicolussi lo scambio, largo verso Pellegrini, Artur, Bentancur, l'aggancio di Manolo Portanova, parte Portanova, palla al piede, Portanova ancora, rientra all'interno dell'area di rigore, grande numero, Portanova per Piazza, sbaglia il passaggio, poi Douglas Costa prova di vincolarsi all'interno dell'area di rigore, Douglas Costa fuori, Piazza, la parada di Lari, Piazza ancora, 3-0 a Mianni in Serie A, tante stagioni a Siena, Bologna, Genoa, soprattutto Siena, forse gli anni, dove ha fatto meglio, Bentancur, ottima apertura, prova a salire con grande vemenza il centrocampo, la mediana del Novara, ma ha sbagliato l'intervento, attenzione Marco Piazza, Piazza rientra sul destro, finta e controfinta, Piazza dall'altra parte, cercare la... Bentancur, Bentancur verso Douglas Costa, Douglas Costa per Portanova, nuovamente Rodrigo Bentancur, Artur, Bentancur, Pisciglio, limite dell'area, dentro il pallone del Cagnano, Artur, Artur ancora, va al Brasiliano, sempre Artur, il passaggio, allora può ripartire la Juventus, Rodrigo Bentancur, Bentancur dall'altra parte, con la coda e l'occhio ha visto partire Pellegrini, Pellegrini la mette giù con un po' di difficoltà, ma resiste alla carica molto bene, il passaggio per Nicolussi, Nicolussi con il... di Daniele Rugani, Rugani verso Bentancur, Bentancur, palla frontale, Artur, Artur dentro, cercare... Va a ricevere Piazza, Piazza ancora, dietro verso Artur, Bentancur, Portanova, Bentancur, limite dell'area di rigore, Artur ancora, scucchiaia dentro per Nicolussi, Nicolussi, Nicolussi... Gli ultimi minuti, il caldo sta facendo la differenza, in questo momento, qui al GTC con Tinas, perché siamo molto vicini, se non l'abbiamo superato, se non ho proprio il termometro di fronte, ma i 30 gradi e quindi anche coloro che sono entrati a gara in corso, comunque stanno risentendo di questa temperatura, Pellegrini, Pellegrini l'appoggio dietro verso Mattia De Sciglio, De Sciglio con i contagiri, per Rodrigo Bentancur, sempre presente all'interno del gioco della Juventus, Demiral, Douglas Costa, Bentancur, De Sciglio, Ruggani, Demiral, batteria di centrali molto importanti, quelli della Juventus, Chiellini, Bonucci, De Ligt, che in questo momento è indisponibile perché è stato operato alla spalla poco dopo il termine della stagione scorsa, qui si uniscono Ruggani e Demiral, molto importante davvero, attenzione a Portanova, Portanova, il gol della Juventus, 4-0, ma non... Artur, Nicolussi, Ruggani, Demiral, Portanova, Portanova con il piattone a servire Rugani, Ruggani per Mattia De Sciglio, Artur, Nicolussi, Nicolussi dentro, il pallone per Piazza, Piazza con l'esterno a cercare Pellegrini, Pellegrini dentro, l'area di rigore, Pellegrini, buona fuga questa, Pellegrini dentro, Nicolussi, conclusione!